Tu sei di Napoli? No, di Battipaglia, a sud di Napoli. Sono mosse popolari diventate tragedia. E' successo a Battipaglia in provincia di Salerno. Cittadini, lavoratori, commercianti di Battipaglia, oggi sciocano il generale. Però mi raccomando, fate una manifestazione pacifica. Domani ce lo sciopero a Battipaglia, vuoi non partecipare? Domani io sono a scuola dai miei ragazzi, mi aspettano. E oggi la tipografia è chiusa. E perché? Perché sciopero generale, tutte le attività stanno chiuse. E mandate dei rinforzi. Ristabilite l'ordine, certo? Grazie. Grazie.